un soggiorno con Laura. Potremmo proporvi una settimana in una località esotica o in uno chalet di montagna, ma il soggiorno migliore è quello che dura tutta una vita, il soggiorno di Bassano Mobili. Bello, di gran gusto e con una qualità del legno ineguagliabile. Ed allora, se state pensando qual è il vostro soggiorno ideale, Laura vi consiglia un bellissimo divano in vera pelle, dove potrete stare comodi e rilassati in un lungo pomeriggio rigenerante o in una delle serate con gli amici, senza stress e senza alcuna preoccupazione. Garantisce il marchio Bassano Mobili, il leader nella qualità del legno e dei mobili in legno massello. Ed ora, ascoltate bene. Laura vi offre un soggiorno lungo tutta una vita, in cui sarete circondati da splendidi panorami come quello di una credenza lavorata a mano dai mastri artigiani di Bassano, che hanno portato fino ai nostri giorni l'antica arte del bel mobile, quello che non passa mai di moda, quello che fa morire tutti di invidia per la sua qualità e la sua bellezza. E per stupire tutti, Bassano Mobili presenta una grande offerta di tavoloni da taverna costruiti con solido legname pregiato, rigorosamente massello e con spessori e misure a vostra scelta. Fino ad arrivare ai grandi tavoli da sala, pezzi unici, rifiniture di alta scuola artigianale e, come sempre, legno massello, legno pregiato, noce, rovere, castagno, lavorato abilmente, intarsiato, intagliato e lucidato a gomma lacca per risultati favolosi. Inoltre, Bassano Mobili è specializzato nella costruzione di boiserie. Davvero eleganti! Vedrete, da Bassano Mobili sarà un soggiorno straordinario. Venite a vedere uno dei fantastici salotti Bassano Mobili, rivestiti in morbida pelle, struttura in legno massello ed in questo periodo potrete farli vostri a prezzi incredibili. Bassano Mobili, infatti, sconta fino al 40% tutti i salotti in esposizione, prezzi sorprendenti in cui sono inclusi il trasporto ed il montaggio. Il vostro soggiorno, così, sarà ancora più bello. In più, oggi Bassano Mobili aggiunge un ulteriore sconto agli incentivi statali. Il risultato è che potrete avere a casa un Bassano Mobili con un super maxi sconto. Spazzatevi allo stress dei prezzi! Non rinunciate alla qualità! Scegliete Bassano Mobili, mobili veri, legno, legno ed ancora il migliore legno massello. Il trasporto ed il montaggio? Tutto incluso e con la possibilità di avere pagamenti personalizzati. Oggi avere una casa arredata con mobili autentici e pregiati è possibile a tutti, grazie a Bassano Mobili. E questo è il momento di rinnovare il vostro salotto, con sconti fino al 40%. Correte da Bassano Mobili e approfittate subito di queste fantastiche proposte. Modelli bellissimi, rustici e moderni insieme, particolari curati artigianalmente ed un legno che non potrete trovare in nessun altro posto. Quando entrerete da Bassano Mobili, vi stupirete della grande qualità dei mobili. La differenza c'è ed è garantita dal marchio Bassano Mobili, l'originale. Venite subito a vedere le grandi esposizioni Bassano Mobili a Misano Adriatico, strada statale Adriatica 165C e a Porto San Giorgio, strada statale Fermana 118. E per qualsiasi informazione chiamate il numero 0541 61 27 55 oppure visitateci sul nostro sito internet www.bassanomobili.it Godetevi appieno la comodità. Assaporate il gusto di una casa bella, di un arredamento solido e resistente, dove il mobile di grande qualità è anche bello, bellissimo. Da Bassano Mobili troverete tanti modelli di cucine costruite interamente in legno massello, il che conferisce all'ambiente domestico un calore unico. Ogni rifinitura è frutto del lavoro accurato di maestri artigiani che modellano il legno massello come solo la tradizione di Bassano sa garantire, fino ad ottenere risultati straordinari come questi. Belli da guardare e piacevoli da vivere e tanti, tanti modelli, centinaia di proposte per tutti i gusti. Bassano Mobili, ogni mobile, un'opera d'arte. Anche nella camera da letto e nelle camerette per bambini, dove Bassano Mobili propone un'intera area dedicata all'arredo delle stanze da notte dei più piccoli e dei più grandi. Qui la qualità e l'arte Bassano Mobili viene proposta in moltissime soluzioni di armadi in legno massello pregiato, lucidati a mano a gomma lacca, così come nei letti lavorati, in cui c'è tutta la sapiente arte ebanista degli artigiani di Bassano Mobili. Letti in ferro battuto, camere da letto bellissime, calde, accoglienti. Una proposta originale, il letto a cassettoni, un'idea Bassano Mobili. Infine, tanti accessori per rendere bellissima la casa, statue, lampade, lampadari, tappeti. Insomma, Bassano Mobili vuol dire casa arredata in grande stile, perché avete la garanzia di un marchio da sempre leader del legno, il miglior legno. La differenza c'è ed è garantita dal marchio Bassano Mobili, l'originale.